Cari amici buongiorno e insieme considereremo una piccola lezione di aritmetica spirituale. Leggiamo nel Salmo 90 il versetto 12 che dice Il Salmo 90 è il Salmo più antico della Bibbia e la Bibbia lo attribuisce a Mosè. Al centro del Salmo 90 troviamo questa piccola preghiera che riguarda il come acquistare la saggezza. La saggezza di cui parla Mosè non ha a che fare con il quoziente di intelligenza né con i titoli accademici. Tutti nasciamo con un patrimonio genetico diverso. Ognuno di noi ha differenti talenti naturali, delle capacità innate. Alcuni sono portati all'arte, altri a studiare, altri alle cose pratiche. Ma nessuno nasce saggio. Perché? Perché la vera saggezza è un bene che dobbiamo acquistare durante il nostro cammino. Come dice il Salmo 90 Per acquistare un cuore saggio. La saggezza da un punto di vista etico è riconoscere la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. Essere saggi, quindi, significa sapere scegliere la cosa giusta. La Bibbia è un vero manuale di saggezza e fornisce diversi modi per diventare saggi. Come ad esempio osservando i comandamenti di Dio o studiando le scritture. Ma uno di questi modi, come abbiamo letto, è imparando a contare bene i nostri giorni. Pensavo che da giovani si contano i giorni per la fine della scuola. Poi cresciamo e iniziamo a contare i giorni che mancano per il nostro matrimonio. Poi si contano i giorni per la nascita di un bambino. Poi, invecchiando, iniziamo a contare i giorni che mancano per andare in pensione. Ma la lezione di aritmetica di Mosè ha invece per soggetto non un evento della nostra vita, ma tutta la nostra esistenza, fatta di un numero di giorni che ha un inizio e un termine, un numero di albe e tramonti, un numero di giri del pianeta Terra sul quale soggiorniamo. Contare i giorni della nostra nascita ad oggi non è mai stato così facile. Basta andare su internet e cliccare su uno di quei simpatici programmini che contano i giorni. Io ho scoperto, per esempio, che ho vissuto 22.796 giorni. E' stato molto facile contarlo. Ma faccio un'altra riflessione. Soltanto Dio sa qual è il numero totale dei nostri giorni. Infatti dice un altro Salmo. Nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi hai destinato, quando nessuno di essi era sorto ancora. E' vero, soltanto il Signore può insegnarci. Solo Lui è l'insegnante. Solo Lui può insegnarci a contare bene i nostri giorni. Caro amico, volevo dirti questo. Gesù è venuto, è morto, è risorto, per dare un senso ai nostri giorni contati, che il Salmo 90 descrive così fragili. Fragili come un soffio, un sogno, uno stelo d'erba. Ci dice anche che possono essere 70 anni, per i più forti 80 anni. Ma ti voglio dire che tanti o pochi che siano i nostri giorni, possiamo essere certi che se li viviamo insieme a Lui, saranno tutti speciali, tutti pieni di significato. Imparare a contare i nostri giorni è imparare a considerare l'esatta dimensione della nostra vita e tutto questo ci porterà ad acquistare un cuore saggio. Detto questo, ti auguro una buona giornata. Ti auguro una buona giornata a te e ai tuoi cari e prendo il mio caffè e Dio ti benedica.